Buonasera Sua Eccellenza finalmente, sono un ex co-co-co-dipendente, c'è una cosa che mi serve urgentemente, un lavoro che però sia permanente, perché sa che il precariato non consente la certezza di un futuro indipendente. Si però mi raccomando Sua Eccellenza, io ho mia moglie che è già in piena gravidanza, qui la faccenda è di notevole importanza, la ripeto è di una certa urgenza, ne parli un poco con la sua coscienza, e poi mi vieni a dire che ne pensa, e andando in nuio che mi facciamo fa, mi facciamo fa, e andando in nuio che mi facciamo fa, mi facciamo fa, e bevieni un poco cosa si può fare, se le collabora possiamo contrattare, ovviamente se disposto anche io a pagare, io subito la faccio lavorare, altrimenti le rimane da aspettare, va in fumo veramente un bel affare. Lei mi scusa un attimino Sua Eccellenza, l'avevo già informata della mia conoscenza, io vorrei che lei capisse l'importanza, non sottovaluti poi questa circostanza, lo sa che lei dà un pezzo in stretta sorveglianza, accetti il mio consiglio, si muova con prudenza, perché c'è sì non 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 faccia ma fa, dama fa, zumma fa, sè non non faccia ma fa, La nuova già ma va Ma non prego giovanotto Si torna anche il capotto Che vogliamo far scoprire il quarantotto E' una faccenda seria E qui per una miseria Per niente mi spediscono in Nigeria Lei è davvero una persona eccezionale Il suo modo di fare è micidiale Lei cos'è che cerca un posto individuale? Io le offro me l'impiego comunale Naturalmente ci sarebbe anche statale Rifletta un po' come mi dice quale E' qui che ti voleva sua eccellenza E gli altri amici senza conoscenza Che ti facciamo fare penitenza Ma sa che proprio fuori questa stanza La maggior parte ha perso la pazienza E guarda avanti senza più speranza E' puro me colpa toica Kama fa Kama fa Kama fa Grazie.